Buongiorno da UltimaTG, proseguono senza sosta i viaggi della speranza ma si trasformano spesso ormai con una consuetudine disarmante in momenti invece di morte, sono stati recuperati otto cadaveri dopo che una imbarcazione a poche miglia da Tripoli si è ribaltata ieri, salvate comunque 86 persone lo sbarco è avvenuto questa mattina nel porto di Catania, c'era per noi Simona Zappalà Sembra più pesante di quanto si temesse il bilancio del naufragio dell'Epifania nel Mediterraneo dalle testimonianze dei superstiti raccolte da personale dell'OIM questa mattina dopo lo sbarco a Catania sul gomone andato a fondo erano saliti in 150, agli 86 superstiti ai corpi delle otto ragazze recuperati sbarcati questa mattina a Catania poco dopo le otto mancherebbero 56 persone l'ennesima tragedia in mare, il primo naufragio del 2018 che porta a 64 il numero complessivo dei morti di questi primi giorni dell'anno, la tragedia sarebbe stata causata dal cedimento del fondo dell'imbarcazione che si sarebbe spaccato facendo cadere a mare decine di migranti i superstiti sarebbero rimasti in acqua per ore aggrappati ai tubulari del gommone che stava affondando i numeri sono stati riferiti questa mattina da Flavio Di Giacomo, portavoce dell'OIM a Catania, personale della Croce Rossa per fornire i primi soccorsi e uomini della polizia che stanno ascoltando i sopravvissuti per ricostruire la dinamica del naufragio ieri altri 27 migranti che viaggiavano a bordo di una piccola barca di legno sono stati soccorsi da un rimorchiatore e trasbordati sulla nave Aquarius di SOS Mediterranè mentre la Guardia Costera Libica ha intercettato altri due gommoni con circa 200 migranti e recuperato i corpi di altre due donne questa mattina una motovedetta della Guardia di Finanza ha invece intercettato a 11 miglia dalle coste calabresi una barca a vela con 34 persone a bordo dirette ora a Crotone intanto sono state avviate le prime indagini sulla tragedia la polizia di Catania sta acquisendo le testimonianze e i verbali delle operazioni del personale di bordo Fin dalle prime ore del mattino era presente il personale della Croce Rossa italiana attualmente per prestare soccorso e assistenza, sentiamo le testimonianze Il secondo sbarco già nel 2018? Sì infatti il secondo sbarco con una situazione diversa rispetto a quella di prima visto la presenza delle salme e le attive del soccorso che penso tutti abbiamo visto questo ancora una volta ci fa riflettere come effettivamente le condizioni lì in affion sono delle migliori perché se una persona in pieno inverno decide di prendere il mare e tendere alla fortuna vuol dire che quella fortuna in quel paese proprio non c'è e quindi grazie a Dio i superstiti non hanno grosse criticità tant'è che non abbiamo ospedalizzato nessuno, qualche ustione, ovviamente dei fattori di ipotermia però ovviamente quello che ha segnato di più queste persone è il quadro psicologico che ovviamente è molto provato Sono 86, quante donne, uomini, bambini? Sì ci sono diversi, ci sono alcuni bambini, diverse donne la cosa importante che diceva anche il comandante sono state le attività di soccorso nelle quali hanno praticato le attività di cardioreanimazione polmonare una bambina stava soffogando e questo è stato importante e determinante per salvare alcune di queste persone ancora una volta è stato utile l'accordo che abbiamo avuto con la Guardia Costiera perché proprio a questa 18 abbiamo fatto un corso di cardioreanimazione polmonare e il comandante diceva quando è stato utile perché in quella situazione piuttosto particolare hanno tirato giù le navi di soccorso chiunque era formato è riuscito a prestare soccorso alcuni di questi sono andati a buon vine, altri purtroppo no Di che nazionalità sono? Sono diverse nazionalità, ora appunto questa è un'attività che farà l'indeggi di polizia ma comunque sono diverse etnie Oggi nei loro visi diciamo c'è molta stanchezza fisicamente diciamo tutto sommato le condizioni sanitarie sono abbastanza buone però sono veramente molto provati oltre fisicamente anche psicologicamente Sono bambini? Sì, abbiamo incontrato finora diversi bambini sono circa 3-4 però ancora lo sbarco è in corso quindi non sappiamo se poi sul finire ne incontreremo qualcun altro però fortunatamente i bambini che abbiamo incontrato finora stanno tutti bene Sono sereni? Sono silenziosi, oggi è uno sbarco silenzioso Qualcuno ha fatto cenno al naufragio? Qualcuno ci ha detto che aveva perso un familiare ma ecco c'è molto silenzio, molto riservati al momento nessuno ci ha raccontato molto però abbiamo capito che qualcosa è successo Restiamo in tema di sbarchi perché c'è un allarme lanciato dai magistrati di Palermo secondo i quali degli ultimi sei mesi una organizzazione tunisina avrebbe fatto entrare una serie di soggetti che fanno capo all'estremismo islamico e questo proprio attraverso gli sbarchi dei migranti Simona D'Urso Possibile presenza di terroristi dell'ISIS è l'allarme lanciato dal ministro dell'interno Marco Miniti e dai PM di Palermo secondo i quali da sei mesi un'organizzazione italo-tunisina potrebbe aver trasportato in Italia soggetti legati all'estremismo islamico del gruppo farebbe parte anche una donna il ministro Miniti chiede la massima allerta al fine di controllare le tratte dei combattenti su dei gommoni fatiscenti Già dai mesi scorsi i PM di Palermo indagano su una specifica rotta che sembra fatta apposta per trasportare in Sicilia migranti particolari una rotta breve e sicura dalla Tunisia alle coste del Marsalese percorsa con gommoni d'altura con motori potenti in grado di percorrere la distanza anche in 3-4 ore il tutto a un prezzo ribassato di 3.000 euro a passaggio contro i 4-5.000 euro del costo a saldo dei viaggi dalle coste libiche si direbbe scafisti di lusso, tunisini e italiani alcuni dei quali già individuati, arrestati e mandati a giudizio per direttissima dai PM siciliani l'ultima retata di gruppo risale al 6 giugno scorso quando la procura di Palermo ha disposto il fermo di 15 persone accusate di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contrabbando di tabacchi l'organizzazione avrebbe trasportato dalla Tunisia alle coste marsalesi anche soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine per sospetti di collegamenti con organizzazioni terroristiche di matrice gidaista i magistrati della DDA di Palermo Geri Ferrara, Federica Lacchioma e Claudia Ferrari scrivono il sodalizio costituisce una seria minaccia alla sicurezza nazionale anche perché i soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine sono gravati da precedenti penali ovvero sospetti di connessioni con formazione di natura terroristica di matrice gidaista Veniamo a Catania perché una lite tra virgolette semplice tra condomini stava per trasformarsi in tragedia uno dei litiganti è risalito a casa e ha cercato di dare fuoco al pavimento e voleva in realtà far esplodere l'edificio sentiamo il servizio avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi il contrasto tra condomini di un palazzo della zona di via Castello Ursino a Catania e questa volta non c'è spazio per l'ironia tipica di questi casi con l'intento di far esplodere l'immobile a seguito di screzi con due donne che abitano nello stesso edificio un residente di 60 anni avrebbe gettato liquido infiammabile sul pavimento del proprio appartamento e aperto tre bombole di gas quando la polizia è giunta sul posto a seguito dell'allarme lanciato al 112 proprio dalle due inquiline il pensionato è stato trovato con petardi e un accendino in mano all'esterno del palazzo è stato subito bloccato Antonino Salvatore Lopresti di 60 anni è stato arrestato per tentato omicidio plurimo e tentato incendio tanta paura nel palazzo e nella zona per precauzione nello stabile è stata interrotta l'erogazione dell'energia elettrica e sono intervenuti i vigili del fuoco facendo intanto sgomberare l'edificio e le abitazioni attigue e messo in sicurezza l'intera area sentito in questura il sessantenne ha motivato il gesto con vecchi rancori e dissidi di natura condominiale nutriti nei confronti di due donne residenti nello stesso stabile Furto questa notte nel plesso dell'istituto Vittorino da Feltre a Montepò esattamente in via Racuglia stiamo parlando di Catania un bottino di migliaia di euro tra l'altro atti di vandalismo e 600 ragazzi sono rimasti senza laboratori Damiano Scala 30 computer, lim e altro tipo di materiale didattico questo è il bilancio dei furti di ieri notte nel plesso dell'istituto comprensino Vittorino da Feltre di via Racuglia nel quartiere di Montepò a Catania ignoti probabilmente sono entrati forzando questa porta ed hanno fatto man bassa nei laboratori di inglese e informatica l'unica cosa certa è giustamente questo i ragazzini adesso saranno privati di due laboratori multimediali utilizzati sia come laboratorio multimediale di informatica come laboratorio di lingua inglese realizzati con i finanziamenti PON sul posto i rilievi della polizia scientifica per capire le modalità del furto adesso è tutto stato vanificato da questa azione di questa gente che in qualche modo ha compromesso il futuro il futuro di questi ragazzini perché adesso è chiaro che non avendo possibilità di attingere i finanziamenti PON chiediamo alle istituzioni scolastiche chiediamo ai cittadini di buona volontà di aiutarci in qualche modo allarme bomba a Palermo ieri sera esattamente in via Catania sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia municipale e la polizia di Stato oltre naturalmente al personale medico era però un falso allarme anche se il pacco sospetto è stato fatto brillare altro allarme bomba a Palermo l'ultimo in ordine di tempo era stato l'11 dicembre scorso questa volta sono intervenuti anche gli artificieri ieri sera in via Catania è stato segnalato un pacco sospetto davanti all'ingresso della Chiesa Santa Maria di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni quasi tre ore è stato di allerta dopo l'allarme è scattato attorno alle ore 20 il punto esatto era fra via Malaspina e via Giacomo Cusumano da quel momento sulla zona si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato i vigili urbani, i vigili del fuoco ma anche i dottori del 118 e soprattutto gli artificieri che sono arrivati quando la zona era transenata e presidiata le immagini tratte dal sito di Repubblica raccontano proprio questo preciso momento il pacco è stato fatto brillare anche se si è trattato di un falso allarme era pieno di vestiti ed era stato lasciato tra due auto la paura di attentati è ormai per 80 da qui l'intervento in piena regola con quattro volanti della polizia, i vigili del fuoco la polizia municipale e le ambulanze tre ore di allarme che fortunatamente è rimasto tale Un muratore di 67 anni in pensione che lavorava in nero e senza le necessarie protezioni di sicurezza possono partire le immagini dalla regia è stato scoperto dalla polizia in un cantiere edile del rione Picanello a Catania trovati anche altri muratori che non indossavano alcun sistema di protezione al titolare sono stati contestati la mancanza di dispositivi di sicurezza il rischio caduta dall'alto per lavori in quota e la mancanza di sistemi di protezione tipo parapetti Cambiamo argomento c'è stato un crollo in un controsoffitto in una scuola di bagheria è crollato il controsoffitto in due classi della succursale del circolo didattico Antonino Gramsci alla riapertura dopo le vacanze natalizie questa mattina il bidello ha trovato i calcinacci sulle cattedre e sui banchi gli agenti del commissariato chiamati dal dirigente della scuola hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per stabilire le condizioni complessive della struttura affittata dal comune in via precauzionale gli alunni non sono entrati nell'istituto lo scorso gennaio in un'altra classe era già venuto giù il controsoffitto sempre nello stesso istituto e anche allora fortunatamente non c'erano stati feriti oltre a sistemare rapidamente valuteremo la possibilità di costituirci parte civile e presentare un esposto contro i responsabili ha detto il sindaco di bagheria Patrizio Cir 5 da circa 11 anni l'amministrazione comunale ha preso in affitto i locali della casa della fanciulla in attesa che vengano ristrutturati i locali della scuola Gramsci torniamo ad un incidente che si è verificato ieri a Terme di Vigliatore incidente in cui ha perso la vita in un conducente di un'automobile sentiamo il servizio di Carmen Di Pè Dolore e sconforto a Terme Vigliatore per la fine della 19enne Irene D'Acampo nel terribile schianto della sua automobile avvenuto alle 4 del mattino di ieri un destino particolarmente sfortunato per una famiglia già segnata dalla tragedia con la perdita di papà Antonino anche gli scomparso soltanto trentenne in un incidente avvenuto con la moto quando Irene aveva 6 anni impietrita la mamma Marilena Costantino dietro la porta dell'obitorio dell'ospedale Cutroni Zoda di Barcellona Pozzo di Gotto dove si trova la salma della sua unica figlia intorno a lei le comunità di Terme Vigliatore comune di residenza e anche di Barcellona dove la signora Marilena è titolare di un noto negozio di abbigliamento in piazza Duomo la vittima si trovava in Sicilia per le vacanze natalizie e si apprestava a partire per Milano dove studiava l'università cattolica la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia che dovrebbe avvenire domani le indagini condotte dai carabinieri avrebbero già fatto risalire all'identità del conducente dell'auto presente nei frangenti dell'impatto della Fiat Panda condotta dalla giovane che improvvisamente ha cambiato corsia per finire sul muro di un fabbricato tra la strada statale 113 e via Stracuzzi proprio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della vicina farmacia hanno fatto rilevare la presenza di un'altra macchina che avrebbe potuto provocare la perdita del controllo del mezzo da parte della ragazza ci spostiamo adesso a Real Monte in provincia di Agrigento in fiamme auto di due fratelli agricoltori naturalmente sono le indagini da parte dei carabinieri c'è una particolarità le due auto sono andate in fiamme a distanza di 20 minuti ci racconta tutto Giuseppe Castaldo fiamme nella notte tra sabato e domenica a Real Monte il paese della Scala dei Turchi in provincia di Agrigento ad essere letteralmente divorate da due incendi sono state altrettante auto una Hyundai Atos e una Fiat Punto parcheggiate una in via Cardella e l'altra nella vicinissima via Costanza sul posto dopo una segnalazione i vigili del fuoco di Agrigento che hanno spento il rogo e una pattuglia di carabinieri della locale stazione che ha effettuato i rilievi del caso non è stata trovata alcuna traccia di liquido infiammabile che possa far pensare all'origine dolosa dell'incendio i carabinieri che conducono le indagini sono al lavoro per risalire alle cause del rogo la particolarità riscontrata nei due episodi però sta nel fatto che le due auto siano di proprietà di due fratelli di Real Monte entrambi agricoltori e che i mezzi sono andati in fiamme a distanza di 20 minuti dal primo episodio al momento i carabinieri e il comando provinciale di Agrigento non escludono alcuna pista e le cause sono ancora in corso di accertamento certo è che dato che le due auto appartengono a due fratelli un collegamento potrebbe saltare fuori parliamo adesso di politica Roma Piero Grasso ha presentato ieri le linee programmatiche del suo nuovo movimento si chiama Liberi e Uguali mentre già lacerato a seguito dell'appoggio dato all'elezione del presidente Lars Micic che il partito democratico siciliano apre un nuovo fronte polemico interno riguardo alla candidatura alle politiche di Daniela Cardinale figlia di Salvatore idem di Caltanissetta insorgono Salvo Falcone contro le candidature dinastiche l'ufficio provinciale e i giovani delle PD di Caltanissetta insorgono contro la possibile ricandidatura di Daniela Cardinale figlia dell'ex ministro e fondatore di Sicilia Futura Salvatore non è più possibile scrivono i dirigenti idem in una lettera inviata alle segreterie regionali e nazionali del partito subire decisioni assunte da gruppi ristretti le candidature dinastiche affermano rischiano di rendere ancora più acuta la crisi all'interno del partito poi l'avvertimento non vorremmo arrivare a iniziative eclatanti al disimpegno alla chiusura dei circoli dunque il PD Nisseno prende una posizione molto chiara per il sistema di candidature per le prossime elezioni politiche cui intanto liberi e uguali di Piero Grasso punta a superare il 10% nell'intento ha detto il leader ieri allergife di Roma di far rinascere la sinistra Renzi ha detto che vuole abolire il canone Rai dopo averlo messo in bolletta pochi mesi fa Berlusconi scusate ne ha dette troppe in questi ultimi 25 anni non riesco a pensare alla più clamorosa sceglietela voi e vale anche per i 5 stelle che cambiano idea secondo le convenienze del momento sull'Europa sulla cittadinanza sull'euro siamo l'unica alternativa credibile si chiama Alberto Francini ed è il nuovo questore di Catania si è insediato questa mattina prende il posto di Giuseppe Gualtieri una lunga carriera alle spalle vent'anni nei servizi di ordine pubblico allo stadio Simona Zappalà da oggi Catania ha un nuovo questore Alberto Francini che arriva dalla questura di Pisa Francini subentra Giuseppe Gualtieri nominato prefetto con funzioni di ispettore generale di amministrazione il suo primo giorno nel nuovo incarico nella città etnea ha iniziato deponendo una corona dall'oro sulla lapide dedicata a tutti i poliziotti catanesi vittime del dovere posta all'ingresso della questura io adesso sono a Catania sono contentissimo di stare a Catania non avrei mai immaginato di andare così presto a dirigere una questura così importante quindi per il momento tutta la mia attenzione e il mio pensiero è per Catania anche perché in Catania devo dire ho ritrovato anche un po' della mia Napoli perché appena sono sceso dall'aereo la prima cosa che ho sentito è stato il profumo del mare insomma e questo mi ha confortato Alberto Francini nata a Napoli ed è stato dirigente di numerosi commissariati di pubblica sicurezza sezionale e distaccati da ultimo il primo distretto della questura di Napoli commissariato San Verdinando numerose le emergenze che ha dovuto fronteggiare prima o fra tutti quella legata ai rifiuti infatti stamattina abbiamo avuto già un primo contatto con il prefetto su questi temi è vero io ho avuto una grande esperienza insomma sull'ordine pubblico negli stati e sull'ordine pubblico nelle grandi emergenze rifiuti a Napoli mi hanno vissuto i cinque devo dire che sono state anche peggio dell'ordine pubblico negli stati perché là ci troviamo veramente di fronte a situazioni in cui anche la criminalità organizzata era direttamente interessata e quindi agiva sulla piazza agiva sul territorio per crearci grossi problemi e addirittura abbiamo avuto situazioni di vera e propria guerriglia urbana per le quali voglio dire le forze di polizia sono anche attrezzate con una certa difficoltà perché noi siamo abituati sicuramente a fare ordine pubblico però fronteggiare bombole di gas incendiate o diciamo situazioni di grave pericolo quasi sempre nottetempo per far sì che funzionassero le discariche insomma è stata una bella lotta il nuovo questore è stato per vent'anni nei servizi di ordine pubblico allo stadio San Paolo di cui gli ultimi sei come dirigente dei servizi per un totale di oltre 600 partite questa mattina infatti il suo giro si è concluso al cimitero di Acireale per rendere omaggio alla memoria del compianto Filippo Raciti morto durante gli sconti tra tefosi in occasione del derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007 ricordo che stamattina uno dei miei primi impegni è stato quello di rendere omaggio alla salma di Filippo Raciti però perlomeno si era nell'ambito di uno spettacolo che è pur sempre il più bello spettacolo del mondo anche se noi lo viviamo diciamo da un punto di vista piuttosto afflittivo che è quello della sicurezza e dell'ordine pubblico negli stati ma meglio gli stati che l'emergenza di fiuti effetto deterrenza presidio del territorio sicurezza sono questi effetti benefici naturalmente che vengono procurati dal lavoro dei vigili urbani a Catania sono poco più di 350 con un'età media di 55 anni la scorsa settimana è stato pubblicato il bando per un concorso per l'assunzione di 30 nuovi operatori che però vale solo per 5 mesi e allora è stata montata qualche polemica si è scatenata qualche reazione non c'è responsabilità da parte del comune di Catania l'amministrazione comunale fa quello che può piuttosto è il governo centrale che dovrebbe invece garantire maggiori risorse per un concorso che permetta poi di inserire operatori in pianta stabile con contratti a tempo indeterminato oggi siamo tornati sull'argomento e abbiamo sentito il segretario provinciale della CGL Giacomo Roda 30 posti per 5 mesi eccolo il bando per l'assunzione a tempo determinato dei vigili urbani di Catania il primo dopo oltre 10 anni di attesa l'ultimo infatti risale al 2004 quando furono presentate circa 20.000 domande la sicurezza non può avere una scadenza né a Catania né nel resto d'Italia il problema è che il comune di Catania è un comune in piano di rientro ha problemi a fare assunzioni le fa con i soldi delle multe ed è l'unico modo che ha per farle in questo settore siamo di fronte al settore dei vigili urbani che ha ben oltre il 50% di personale che manca i vigili urbani sono pochi hanno un'età media di 55 anni circa e quelli che ci sono fanno un lavoro egregio ma non bastano i fondi per il pagamento degli stipendi dei 30 vigili per 5 mesi sono ricavati dai proventi delle multe così come previsto dal codice della strada il costo della procedura di selezione si prevede sarà coperto dal contributo di partecipazione previsto dalla legge Madia i vigili dovrebbero entrare in servizio entro la prossima primavera tengo a precisare che i vigili urbani che ci sono lavorano e lavorano bene voglio chiedere che i lavoratori fanno il loro lavoro con senso di responsabilità la viabilità e il traffico sono un problema enorme per questa città e il risolto è il problema del tondo gioieni che è un problema gravissimo per cui occorrerebbero i vigili urbani in abbondanza per poter gestire queste questioni per poter dare una mano veramente nella sicurezza della città noi chiediamo come Cigelle che il governo nazionale si renda conto che è venuto il momento di allentare i vincoli al comune di Catania perché purtroppo i danni economici fatti nel passato sono venendo pagati da questa amministrazione in maniera molto salata per cui sono paralizzate qualunque forma di assunzione vera per cui 30 assunzioni per 5 mesi sono ben poca cosa le salutiamo con piacere ma non risolveranno i problemi del traffico della sicurezza che noi abbiamo poco fa segnalato poi il problema della sicurezza è più complessivo riguarda anche la polizia di Stato i carabinieri sono questioni veramente più complesse però la presenza dei vigili urbani è senza dubbio importante Andiamo a Palermo perché c'è un report che è stato pubblicato dal comando della polizia municipale che parla di 86 mila multe per un totale di 7 milioni di euro di introito fatte in un mese perché sono state registrate da parte delle telecamere che erano state inserite nei varchi proprio agli ingressi della zona a traffico limitato sentiamo Roberto Chifari una stangata per gli automobilisti palermitani la zona a traffico limitato ha stanato migliaia di automobili non in regola per il transito in centro secondo il report diffuso dal comando dei vigili urbani nel periodo dell'accensione delle telecamere il 25 settembre scorso e per il primo mese di esercizio sono state combinate 86 mila multe pari ad un introito di 7 milioni di euro i 5 varchi quelli di Porta Felice Piazza Santo Spirito Piazza Giulio Cesare Via Roma Via Porto Salvo Cala Piazza Verdi Teatro Massimo Via Gaggini Piazza Colonna sono in funzione ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e registrano tutte le targhe in transito l'occhio elettronico ha multato un'auto ogni 30 secondi non risparmiando nessuno come nel caso di Giuseppe Gargano che lo scorso 19 dicembre ha ricevuto la contravvenzione da 93,98 euro per essere entrato in ZTL 7 secondi prima delle ore 20 l'orario di fine limitazione ad oggi il totale dei passi richiesti ammonta 184.000 unità di cui 71.000 sono stati richiesti online e quasi 13.000 allo sportello ma chi lo richiede per la maggior parte dei casi sono cittadini 51.110 secondo le imprese con poco più di 14.000 istanze presentate e infine sono 18.000 possessori di pass da lista bianca ovvero coloro che sono esentati dal pagamento del ticket tra gli 86.000 multati ci sono una ventina di automobilisti che si vedranno recapitare una maximulta si tratta di non autorizzati che hanno beccato fino a 8 verbali in 10 minuti le associazioni di categorie insorgono e chiedono una regolamentazione degli ingressi ma intanto il comune ricorda che è possibile attivare i pass giornalieri al costo di 5 euro per evitare le sanzioni una guerra che non è ancora finita alla regia per la pubblicità ci ritroviamo subito dopo e parleremo di calciomercato perché ci sono delle novità sia per il Palermo che per il Catania da venerdì 12 gennaio 2018 ritorna su Ultima TV aspettando Sant'Agata trasmissione di approfondimento sulla vita e tradizioni legate alla Santa Patrona di Catania servizi racconti interviste per vivere insieme i giorni che precedono la festa aspettando Sant'Agata ogni venerdì su Ultima TV su Ultima TV Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.